Ciao amici di YouTube! Oggi stavo pensando a come questa vita sia diventata sempre più complicata. Siete d'accordo anche voi? Mi ricordo quando ho iniziato a fare crescere la mia attività, mi sembrava di avere troppe cose da fare. Scrivere libri, fare conferenze, tenere lezioni e poi girare video, fare consulenze alle persone, organizzare eventi, collaborare con aziende del settore e anche seguire il mio centro a Milano e la mia famiglia. E poi, scusate, c'erano anche le mie passioni e il mio benessere nella lista. E così c'è stato un momento in cui mi sono trovata di fronte a due opzioni. Uno, fare un passo indietro e prendermi del tempo imprecisato. Due, fare un passo avanti e trovare il modo per mantenere la qualità della mia vita in mezzo a tutti questi impegni. Chi mi conosce può immaginare la mia scelta. Fare un passo indietro? Mai! Ho fatto un passo avanti. Io credo da sempre che si possa essere persone impegnate e di successo trovando anche il modo di stare bene e fare fronte a tutto nel migliore dei modi. Così ho individuato quattro abitudini che mi hanno sostenuto alla grande. E volete sapere cosa ho ottenuto con queste quattro abitudini? Più energia e meno stress. Oggi per me sono irrinunciabili perché mi hanno cambiato la vita in meglio. Se io vado dallo stesso parrucchiere sempre per abitudine mica divento più felice, no? Beh, le abitudini definiscono chi siamo e come stiamo. Chi per abitudine fa colazione al mattino, se non lo fa si sente strano. Chi per abitudine mangia sempre il cioccolato fondente, come me, non può più mangiare il cioccolato al latte. Non ci avevo mai pensato, ma hai ragione. Lo so, ecco le mie quattro abitudini. Sono semplici perché nessuno ha più né voglia né tempo di fare cose complicate, nemmeno io. E sono inaspettate perché sono quattro azioni che forse fate già ogni giorno, ma se le impostate, come vi dirò, diventeranno gli alleati della vostra migliore giornata. E alla fine del video vi svelerò il segreto per farle funzionare al massimo. Siete pronti a sentirvi più performanti, energetici, positivi, motivati e felici? Bene. Uno, mangiate più cibi crudi. Sono ricchi di enzimi, minerali, vitamine, zuccheri naturali. Danno molta energia. Basta mangiare le verdure crude a inizio pasto e la frutta fresca come snack. Io già mangio bene durante il giorno, però questa abitudine non la seguivo. Due, fate esercizio fisico tutti i giorni. L'esercizio abbassa il livello di stress e alza il metabolismo. Fantastico, ne avrei proprio bisogno, ma non riesco ad andare in palestra tutti i giorni. Ma non ho detto di andare in palestra. Bastano 15 minuti di esercizio anche a casa o in ufficio. Io, per esempio, uso questa cinghia elastica per tonificare anche le gambe mentre sono seduta alla scrivania, mentre lavoro. Ah, bella! E funziona anche per le braccia. Tre, leggete. Leggere ci cambia la vita. Almeno una o due pagine al giorno di qualunque tipo di lettura, anche leggera, ma ben scritta. Oh, mamma mia, non leggo più un libro da un sacco di tempo. Ma siccome navigo molto su internet, non me ne ero accorta. Leggere è meglio di guardare un film. La lettura nutre il cervello, rigenera la mente, rilassa e riduce lo stress. Va bene, recepito. Quattro, il mattino ha l'oro in bocca. Svegliatevi presto. Non avete idea di quante più cose si possono fare al mattino con la mente fresca. E vengono meglio. Ma come? Già dormo poco e mi devo alzare ancora prima? La scienza consiglia di dormire almeno 7-8 ore per rigenerarsi e abbattere lo stress. Quindi, per dormire molte ore e alzarsi presto contemporaneamente, c'è solo una cosa da fare. Andare a letto prima. Ok, buonanotte. Sono sicura che ognuno di voi mette già in pratica una o più di queste abitudini. E voglio leggerlo nei commenti qui sotto, perché sono curiosa. Ma vi sto per svelare il mio segreto. Adesso è il momento di mettere un bel mi piace. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E per vedere altri video sulla salute naturale e la crescita personale, è facile. Basta iscriversi al mio canale con un clic e attivate le notifiche. E poi, fate come me. Diventate portatori sani di benessere. Condividete questo video con i vostri amici e sui vostri social. Benissimo. Per cambiare veramente la vita, bisogna mettere in pratica tutte e quattro le abitudini tutti i giorni. Senza saltarne nemmeno una. Io, per aiutarmi, ho fatto questo quadrato delle buone abitudini. Verde per il cibo, rosso per lo sport, blu per la lettura e arancione per la sveglia e il riposo. Lo porto sempre con me e lo tengo bene in vista sulla scrivania. Così non me ne dimentico mai. Fatelo anche voi, come vi piace. E se vi chiedono cos'è, fategli vedere questo video, naturalmente. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Funziona anche per le braccia. Ripoggio. Blu per il ripoggio. Non c'è. Uncuor al complULarlo. La vigla. Il ripoggio. No. 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 Se forninde. No. No.